E con questo video tutorial vediamo insieme qualche plugin adatto per migliorare un po' le funzionalità del nostro sito Andiamo in Bacheca Il primo plugin che installiamo è quello che ci consente di creare le sottopagine Andiamo in plugin Ovviamente si possono creare in tanti modi, questo consente di creare con un automatismo Che ci consente di integrare nel nostro sito le sottopagine nella colonna destra relativa al contenuto attivo Aggiungi nuovo Il plugin che ci interessa si chiama SubPagesWidget Cerca plugin Andiamo a cercare nella nostra lista Ecco che lo troviamo qua in prima posizione Vedete molto ben anche recensito come punteggio molto elevato E clicchiamo su installa ora Si è davvero sicuro di installare questo plugin? Ok Attiviamo il plugin Bene Adesso che è attivato il plugin Non ci resta che creare delle sottopagine e vedere un po' come funziona Ammettiamo di creare delle sottopagine alla nostra scuola E poniamo di scrivere scuola primaria e scuola secondaria di primo grado Quindi andiamo su nuovo Nuova pagina Scuola primaria Qui avrà il suo contenuto ma a me interessa adesso mostrarvi il funzionamento del plugin Dobbiamo soltanto dire che questa è una sottopagina e quindi avrà come genitore Una pagina che adesso gli andiamo ad assegnare Andiamo a cercarla e sarà proprio la pagina la nostra scuola Pubblichiamo Se noi adesso andiamo sul sito Non la troviamo Se andiamo sulla nostra scuola Vedete che non appare Come farla apparire nella zona qua di destra della colonna del cosiddetto menu contestuale? Bene, per poterla fare apparire Dobbiamo andare di nuovo in bacheca Cliccare su aspetto Widget E attivare il widget Che va posizionato nella barra laterale 2 Andiamo a cercarlo Sub pages menu Lo vedete E lo andiamo a trascinare nella sua posizione Qua potete vedere poi Di sbizzarrirvi voi Su come andare a vedere la vostra visualizzazione Io nei siti che hanno tantissime sottopagine Deseleziono tutto Però mentre lasciamo così vediamo cosa capita Salva E andiamo a vedere se abbiamo ottenuto l'effetto voluto Andiamo sul sito La nostra scuola E vedete che appare il sottomenu scuola primaria qua a disposizione Ovviamente noi poi possiamo proseguire con altre sottopagine Ad esempio nuova pagina Scriviamo Scuola Secondaria Primo Grado Poniamo Andiamo a metterla Figlia Di la nostra scuola La pubblichiamo Già che ci siamo Per vedere giusto un po' il funzionamento Ammettiamo che nella scuola primaria A sua volta ci siano delle sottopagine legate a un po' il funzionamento E ammettiamo magari Scriviamo Orario della scuola Aggiungi nuova Orario Della scuola Adesso non so se neanche se la terminologia sia giusta Come genitore Mettiamo scuola primaria Pubblica E poi mettiamo magari un'altra ancora Aggiungiamo un'altra Che potrebbe essere Dopo l'orario della scuola Potrebbe essere Non so Uscite didattiche Uscite didattiche Sempre che uno faccia un'organizzazione di questo tipo Ovviamente poi sarete voi in base un po' alle vostre necessità Organizzare i contenuti al proprio interno Con le strutture che preferite E ancora questa la mettiamo sotto scuola primaria E pubblichiamo Vediamo un po' l'effetto di tutto ciò Andiamo sul sito La nostra scuola Vedete qua in questo caso Noi troviamo qua Già inserito tutte le pagine Su e sottopagine Andiamo su uscite didattiche Andiamo su orario della scuola Andiamo su scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Ecco Se il menu non è troppo ampio Può andare bene questo tipo di formulazione Se no potete dispuntare alcuni di questi segni di spunta E vedere soltanto le sottopagine Bene Fatto questo andiamo a vedere qualche altro plugin Io direi quello degli allegati Che carino Andiamo allora a modificare una circolare già fatta Quella del collegio docenti E immaginiamo di mettergli un allegato qualsiasi Adesso qua non ce l'ho sotto mano Ma potrebbe essere Non so un materiale Che viene allegato al collegio Come un materiale di studio Andiamo a vedere Come ci si comporta Rispetto agli allegati La prima cosa è caricarlo Quindi vado a cliccare su carichi e inserisci Quindi in questo momento è la prima operazione Di trasporto dell'allegato Dal locale a remoto Cioè dal nostro computer Al server Dove c'è il sito della nostra scuola Selezioniamo il file Andiamo a prenderlo da qualche parte Ammettiamo che sia dentro Una mia cartella Che è quella sulla giornata aperta E ci pigliamo l'allegato A una circolare protocollata Quella peraltro che contiene Il programma della giornata aperta Apri Vedete che viene inserito Ecco io consiglio di andare a cambiare Quello che è il titolo Del nostro allegato E lo mettiamo qua Lo chiamiamo così Come dovrebbe essere poi Se vogliamo Il link sorgente Ed è programma Della giornata Pugniamo E poi lo salviamo Ce l'abbiamo qua Non l'abbiamo ancora utilizzato Tra l'altro vedete che viene indicato Direttamente qua Allure del link Quindi sappiamo in che posizione è E lo possiamo sempre ritrovare Tra le varie risorse Le varie risorse Della libreria media Che qua trovate Ecco io Ho dimenticato una cosa Precedentemente Che faccio adesso Che era quello però Di scaricarmi un plugin aggiuntivo Allora vado su plugin E poi tornerò su questa Circolare Aggiungo un nuovo plugin Che è il secondo Ed è un plugin molto molto bello Si chiama EG Attachment Adesso forse c'è il trattino in mezzo Proviamo poi a cercarlo Vediamo se lo troviamo Ecco qui c'è il plugin in mezzo E' di questo Emanuel Diorion A 5 stelle assolutamente meritate Vedrete che è un plugin Che aggiunge un'icona All'editor web Che noi utilizziamo Per scrivere i nostri contenuti E' fatto molto bene E per di più L'autore E' una persona straordinaria Che segue Minuto su minuto L'evolversi del suo plugin Inserendo sempre delle novità Particolarmente interessanti E nel caso in cui Cosa che capita Non ci siano qualche problemi Qualche magari malfunzionamento In determinate condizioni Basta scrivergli E lui risolve E' già capitato Più di una volta Installiamolo Ecco che anche L'EG Attachment E' stato attivato Ha peraltro anche lui Una ricca pagina Di impostazioni Impostazione G Attachment Che qua Voi potete andare Anche a modificare Sempre più arricchito Con tanti formati Più o meno personalizzati Che si possono modificare Ma Ha un uso Diciamo Iniziale Io direi Di non stare A perdere tempo Nelle personalizzazioni Esagerate Laddove non necessarie E limitarci All'uso diretto Che spesso Non solo C'è a contenta Ma è già Molto molto performante E tra l'altro Mi permetto Soltanto di dire Attributo Target Blank E' quello Che fa in modo Che il file Si apra Su una cartella Indipendente Attenzione Che l'attributo Target Blank E' disapprovato Perlomeno Non è conforme Al tipo di documento Richiesto Della legge Per l'accessibilità Che richiede Attualmente Una cosiddetta Definizione Del documento Strict L'attributo Target Blank Non è tra quelli Ammesse E non validerebbe Il codice Per i puristi Del codice E gli attenti Diciamo Sviluppatori Alla conformità Sviluppatori Attenti Alla produrre Codice conforme Anche rispetto Alle richieste Legge sull'accessibilità Quindi da evitare Ma il motivo E' anche un motivo Sensato Perché Si dice che Creare Fanezze Indipendenti Disorienta Spesso Alcuni tipi Di utilizzatori Quindi evitiamo Di farlo E andiamo A utilizzarlo Ritorniamo Su articoli Tutti gli articoli E andiamo A cercarci Quello Del collegio Docento Modifica In realtà Noi Ce l'abbiamo Già Questo nostro File Allegato Tanto è vero Che se io clicco qua Vedete Galleria 1 Ritrovo esattamente Il file di prima Eccolo qua Per cui siamo esattamente Della posizione precedente Ma cosa è cambiato Dal momento in cui abbiamo installato I plugin Ci siamo trovati di fronte A questo nuovo Segno Nella barra degli strumenti Questa graffetta Questa icona È proprio quella Del EG attachment Allora cosa facciamo Ci spostiamo Nel punto in cui Vorremmo inserire L'allegato Sponiamo Che siamo qua dietro Qua sotto Sotto la firma Qua rimaniamo In posizione Centrale Togliamo La centratura Eccoci qua Che siamo Nel punto esatto In cui vogliamo Inserire l'allegato Quindi Torniamo Con l'allineamento A sinistra E con il cursore Qua Clicchiamo Sulla graffetta E vedete Che troviamo pronto Il nostro La nostra finestra Di EG attachment Qui vi do alcuni consigli Allora Ovviamente provate come credete Ma La mia piccola esperienza Mi dice questo O meno Vi dico come io uso Non metto i campi Che mi dice lui Ma metto come campi Soltanto Titolo Nome del file E dimensione Poi aggiungo un titolo Che è un po' Come chiamare Gli allegati E lo chiamo Allegati Se uno solo Potete mettere anche solo Allegato Questo è importante Tag HTML per il titolo Dobbiamo mantenere La conformità Ricordate Alla struttura Del nostro documento Qui Buon Emanuel Secondo me Propone un H2 Che non è la scelta Più felice Perché H2 È il titolo Assegnato già Per default Al titolo Dell'articolo E quindi noi partiamo Qua con un H3 Lo modifichiamo È bene farlo Per mantenere Corretta Quella che è poi La struttura gerarchica Dei titoli Come abbiamo imparato a fare Target blank Non lo mettiamo Avete visto Potremmo metterlo anche qua E siamo a posto A questo punto Clicco su inserisci Lui mi mette Una sorta Di codicillo Noi aggiorniamo E andiamo a vedere Che cosa è capitato Ritorno Qua Sul mio sito Vado a vedere La notizia Sul collegio Vedete Che nelle allegate C'è Messo anche in modo Bastanza carino Con l'icona Che riferisce Che questo è un pdf La dimensione È una cosa molto importante Anche la decessibilità Ad esempio Uno è informato Che se si tratta Di un allegato Troppo grosso Tanto vale Magari Aspettare A scaricarlo Di momento In cui uno Ha una connessione Più veloce Se poi clicco Qua sul titolo Ecco che me lo apro Tranquillamente Quindi vedete Qui Il tasto Indietro Ritorno Alla mia pagina Naturalmente Posso allegarne Anche più di uno E posso scegliere Anche quali Elementi allegare Quindi Questo è il secondo Plugin Chiudiamo Con un terzo Tra i tanti Il terzo Che vi propongo Oggi In questo video Tutorial È quello Che mi porta A mettere Una mappa Nella Diciamo Nella pagina Dove siamo Dove siamo Qui Non abbia Tutta vuota Ammettiamo Di mettere Il nostro Indirizzo Allora Qua facciamo Nome scuola Magari scriviamo Anche qualcosa Introduttivo Scriviamo Anche qualcosa Tranquillamente Vicino Per scuole Scusate Scriviamo Qua La via Io faccio Shift Invio Perché non è Secondo me Un paragrafo Non è tutto Unito Facciamo finta Via Leonardo Scuola Dove ho insegnato Per vari anni Da Vinci 18 Paderno Dugnano Con la N Sola In provincia di Milano Facciamo finta Che sia qua IC È un acronimo Bene Allora già che ci siamo Doppio clic Su IC Essendo una sigla O acronimo Clicchiamo Sul simbolino Acronimo Che avevamo Che avevamo poi Trascinato La nostra barra Di strumenti Quando abbiamo Attivato I plugin Tiny MC Advanced E diciamo Istituto Comprensivo Vedete come sono utili Questi strumenti Di lavoro Inserisci Perfetto E adesso qua Dobbiamo metterci La nostra mappa Cominciamo a giornare La pagina Abbiamo bisogno Del plugin Che qua non c'è Non mi sembra Di averlo già messo Tanto è vero Che qua non lo vedo Bene Ho bisogno Del plugin E vado a installarlo Naturalmente Una volta che è installato Poi il plugin rimane Non bisogna più installarlo Altre volte Si chiama Questo plugin Map Press No Map Press Sì esatto Se non ricordo male Andiamo a cercarlo Vediamo Se era proprio lui Eccolo qua Map Press Easy Google Maps E lo installiamo Siamo sicuri Certo che lo siamo Poi magari uno Preferisce altre Però questi sono tutti Plugin collaudati Funzionano molto bene Lo attiviamo Anche qua Avrà le sue impostazioni Tra l'altro Probabilmente si può dire Anche la lingua Andiamo a vedere O forse lui lo dice Anche automaticamente Usa la lingua Di default Inserisce il codice Paese Probabilmente va bene Casomai Da utilizzare Lascia in bianco in uso Quindi facciamo IT Direi E qua ancora IT Se volete voi Provatelo poi Forse basta solo Sul secondo Provate voi La combinazione giusta Io adesso Questa non la ricordo Per bene Salva le modifiche Credo che possa andare bene Tra l'altro Scegliere anche Delle diverse Combinazioni Di dimensioni Messe in automatico Vedete c'è anche Controlo di visualizzazione Stradale Con lumino C'è anche la possibilità Di attivare o no Lo zoom Con la rotellina Del mouse Se avete più Marker All'interno Della mappa Cioè Più Segna poste Più marcatori Potete Fare in modo Che si apre Prima che avete messo Quella visualizzata Potete anche mettere Un pulsante Con le condizioni Del traffico Vedere quanto vale Insomma Ce ne sono proprio Tantissimi di strumenti Ma andiamo adesso A inserire il tutto E siamo In Dove siamo E tra l'altro Un plugin Che funziona Sia sulle pagine Sia sugli articoli E quindi Se uno mette Non so Un articolo Una comunicazione Di un evento particolare Non so Al cinema Del vostro paese Con uno spettacolo Particolare Può mettere anche Questa all'interno Di un articolo stesso Siamo qua Ci posizioniamo Qua in basso E sarà quel punto In cui inseriamo La mappa Vediamo come funziona Vedete che capita Qua questo Mappress Si è creato da solo Questo boxettino Ricordo ancora Se voi non vedete qualcosa Cliccate in impostazione Schermo E selezionate Qualcosa Che magari vi manca Perfetto Torniamo adesso indietro Mappress C'è sempre Ovviamente Perché non l'ho visto sopra Eccolo qua Mappa in uso Nuova mappa Cosa devo dirgli Per prima cosa Il luogo E allora Scriviamo Quella via Che era via Leonardo Leonardo Da Vinci 18 Paderno Dugnano Milano Milano E poi Clicco su Aggiungi Eccola qua Che l'ha messa Perfetto E proprio qua Riconosco La posizione Della scuola Che sono andato Per tanti anni Perfetto Qua a me non piace Questo tipo Di scrittura Con la Via Leonardo Da Vinci Sopra Perisco fare Una diversa Informazione Clicco su Modifica Via Leonardo Da Vinci Lo metto sotto Control X Control V Mi piace Qua mettere Il nome della scuola Magari Istituto Cioè Diciamo qua Ic nome Scuola Stiamo facendo così Il mio era Gadda Di Paderno Dugnano Salva Perfetto Fatto questo Possiamo qua Dirgli Il titolo Ic nome Scuola Così noi poi Lo riconosciamo È una cosa Più ad uso Nostro Quando noi abbiamo Più mappe Nello stesso Articolo Facciamo Sede E poi Direi che Abbiamo tutto Lasciamo La dimensione 425x350 E salviamo Abbiamo già creata Cosa dobbiamo fare Una cosa semplicissima Metterci Qua Con il mouse Nel punto in cui inserirlo Andare col mouse In corrispondenza Di Di questa mappa E cliccare su Inserisci nell'articolo Vedete Che qua compare Semplicissimo Aggiorna Andiamo a vedere Adesso Se c'è la nostra mappa Dove siamo Scusate Eccoci qua Ecco che è apparsa La nostra mappa Qua E potremmo anche Tirarla più su Attualmente In questa posizione Possiamo fare Una vista satellitare Possiamo fare La vista normale Da google maps Possiamo fare Tante altre cose Mettere qua Lumino Per fargli fare Il passaggio Tra le vie Possiamo anche Cliccare qua Sul segnalino Sul marcatore E cliccare Su percorsi Per dirgli Che noi Magari Proveniamo Da un'altra città Poniamo Che siamo Non so Piazza Lima Speriamo che ci sia Di Milano E vogliamo andare A paderno d'ugnano Lì alla scuola E clicchiamo Su tieni percorso In macchina Vedete Tutto Il percorso Con L'indicazione Stampabile Di esattamente Tutte le strade Che posso fare Quindi vedete Funziona esattamente Come google maps Col vantaggio Che è implementato qua Molto facilmente Nel nostro Sito C'è di dire Soltanto una cosa Che chiudo Che certamente La mappa può essere interessante Ma attenzione Al fatto di fornire Degli strumenti Di orientamento Anche a persone Che possono avere Difficoltà con google maps O problemi visivi O altro Allora Accanto alla mappa E buona norma Scrivere sotto Qualcosa invece Di testuale Tipo come raggiungerci Tanto L'indirizzo L'abbiamo messo prima E qua Mettere magari Non so Dal treno Con il treno Meglio In treno Piuttosto Che in auto Piuttosto Beh a piedi Si intende Una persona Che magari Abita già In quel posto Come raggiungerci Sarà un titolo 3 E qua Metteremo sotto Mettere testo Per dare Delle indicazioni Testuali Magari anche Un elenco puntato Va bene In treno Sarà un'altra Testata 3 Anche lì Ci sarà il testo Anche scusate Il treno non è testata 3 Ho sbagliato io Mettere testo Se vogliamo Come raggiungerci Il testo importante E dopo in treno Dopo in auto Dopo a piedi Evidentemente Se come raggiungerci È una testata 3 In treno È un sottotitolo E quindi Quello va in testata 4 Lo stesso in auto Ho fatto errore Prima di strutturazione Dei vari elementi Di pagina Quell'altro Quindi qua Ci sarà Dire come Insomma Aggiorna Ed ecco Che se noi Ritorniamo qua A visualizzare la pagina Abbiamo Il tutto ben fatto Con le varie spiegazioni